Sul controverso tema della Xilella che flagella gli oliveti secolari della Puglia Salentina ha intervenuto con decisione il vicepresidente dell'Associazione Nazionale delle Città dell'Olio Benedetto Micioscia, sottolineando l'evoluzione della vicenda in tragedia o in farsa a seconda di come la si riguardi. È una tragedia nel senso, diciamo, più, vogliamo raccontarla, più comica della situazione perché io credo che comunque il problema è serio e io credo che solo attraverso una sinergia delle istituzioni che sono interessate alla ricerca scientifica possono trovare soluzioni più che rimettersi a quello che può essere un dato o una ricerca o un'indagine della magistratura. Il problema è sentito e soprattutto va posto un rimedio con una concertazione e le istituzioni scientifiche sono necessarie proprio per arrivare a trovare una soluzione atteso che comunque con l'eradicazione non si risolve il problema. È importante soprattutto rilevare e far rilevare che le buone pratiche agronomiche sono fondamentali per svolgere quel ruolo e quella funzione di prevenzione come è anche importante ribadire un concetto che anche la stessa Regione che ha voluto e preteso una legge di tutela e salvaguardia degli impianti olivicoli cosiddetti ultrasecolari è anche giusto che pensi e sappia che in questo caso se pretende l'obbligo di preservare queste piante deve anche mettere a disposizione degli olivicoltori un aiuto suppletivo atteso che recentemente anche con la nuova PAC, con le nuove disposizioni previste in materia comunitaria c'è una sensibile riduzione di trasferimenti proprio per l'olivicoltura allora o ci attiviamo seriamente e ragioniamo seriamente intorno a un tavolo per vedere quali possono essere le soluzioni reali, vere oppure qui in effetti fidiamo come una vera e propria tragedia shakesperiana grazie a tutti